E da oggi e per tutta la settimana, la testata giornalistica regionale della RAI affronta in collaborazione con l'Inail proprio il tema della salute e della sicurezza sul lavoro, dedicandogli ampio spazio in tutte le nostre trasmissioni di informazione. Entriamo in argomento parlando dai numeri. Per quanto riguarda gli infortuni, gli ultimi dati statistici sulla Liguria forniti dall'Inail sono aggiornati al 2012, anno in cui si è registrato un calo pari al 9,4%. Nel 2012 gli incidenti nella nostra regione erano stati 23.111, l'anno precedente ne erano stati denunciati 25.498. Tra quelli avvenuti in occasione di lavoro, 18.501 erano relativi all'ambiente ordinario, 1.687 quelli con mezzo di trasporto, infortuni in itinere. Queste le malattie professionali più diffuse, asbestosi, neoplasie, ipoacusie, cioè sordità, tendiniti, affezioni osteoarticolari e dei dischi intervertebrali. L'Inail offre incentivi alle aziende che decidono di mettere in sicurezza gli impianti. 20 milioni erogati negli ultimi 4 anni e l'ultimo bando è stato letteralmente preso d'assalto. Luca Di Francesco Antonio ha intervistato Patrizia Rebora, responsabile attività istituzionali e della direzione regionale. Quali sono i finanziamenti previsti dall'Inail per mettere in sicurezza gli impianti? Innanzitutto con uno sconto che può arrivare fino al 30% sul premio da pagare per le aziende che l'anno precedente a quello della domanda hanno realizzato appunto degli investimenti per la sicurezza, per la prevenzione. Ricordiamo che nel 2013 ben 900 aziende hanno beneficiato di questi finanziamenti. Il bando del 2013 è andato a ruba? Il bando Easy 2013 è un ulteriore finanziamento di 29 milioni di euro che prevede proprio un contributo per le aziende che attuano una serie di modalità di finanziamenti tra i quali anche la sostituzione di macchinari che non sono più a norma. Il bando è andato a ruba, si è appena conclusa la fase di valutazione a sportello, il cosiddetto click day, 160 aziende lo hanno superato, quindi possiamo erogare questi contributi ovviamente quando verrà espletata la fase amministrativa per la quale daremo la massima assistenza al territorio, ma non bisogna dimenticare che nel corso del quadriennio precedente abbiamo erogato 20 milioni di euro e 250 aziende ne hanno beneficiato. Grazie.